Ciao, benvenuti sul canale e in questo nuovo video io sono Elena in arte e beauty per caso oggi voglio prima di tutto ringraziare tutti voi iscritti perché stiamo crescendo pian piano e questo mi fa sempre molto piacere quindi un grande grazie e oggi andiamo a fare un video ovviamente in makeup, infatti mi vedete parzialmente struccato per questo andiamo a parlare di Kiko, ho fatto qualche acquistino ultimamente e avevo preso anche qualcosina nei saldi che non sono riuscita a farvi vedere ma metteremo tutto in azione oggi parleremo dell'ultimo lancio, anzi direi penultimo perché questa mattina Kiko ha lanciato la nuova collezione ispirata agli anni 90 quindi video a tema Kiko e partiamo! ho già fatto la base, ho già messo il fondotinta mi piace molto questo fondotinta ed è un fondotinta che avevo preso durante il saldo questo della Mood Boost che è praticamente uguale, diciamo simile, alla linea Beauty Essential io come colorazione ho preso la colorazione 3 Light Beige che va benissimo adesso che sono ancora leggermente abbronzata quindi direi che è perfetto secondo me sarà il fondotinta luminoso che mi accompagnerà per questo autunno bello il finish, vedete che rilascia una bella luminosità naturale il colore giusto perché infatti non vedete tanto stacco sul collo proprio perfetto direi e quindi approvatissimo ma andiamo a mettere insieme il secondo prodottino si tratta di un correttore ma non è solo un correttore in realtà è un 2 in 1 è una base occhi con anche il correttore quindi diciamo un primer e il correttore questo è il pack primario guardate che carino sempre eleganti devo dire i pack di Kiko non si smettiscono mai cambiamo inquadratura così siamo più vicini e potete vedere meglio andiamo a posizionare il primer sulla palpebra per uniformarla vado a picchiettarlo così col pennello vediamo se aggrapperà bene il make up andiamo anche a posizionare il correttore appunto nel contorno occhi come colorazione non ve l'ho detto ho preso la 02 mi sembra molto chiara chiarissima fin troppo per me adesso mettiamone poco e vediamo di sfumarlo bene al limite andrò ad aggiungere un pochino di fondotinta dovesse essere troppo chiaro finisco con le dita questo correttore ha un effetto satinato quindi dovrebbe matcharsi molto bene con il fondotinta lascio proprio questo effetto disteso e luminoso non male devo dire anche questo è un acquistino che ho fatto con i saldi si tratta di questa cipria della Blossom in Beauty anche questa richiamava moltissimo la cipria uscita con la Beauty Essential l'ho presa ovviamente ad un prezzaccio durante i saldi di solito se mi capita almeno un pochino di scorta la faccio con i saldi perché per chi co ne vale veramente la pena questo è l'interno è proprio completamente bianca e vado a spolverarla proprio leggermente con un pennello su tutto il viso proprio una cosa leggera vado un po' a settare passiamo ad un altro pezzo forte che è appunto una delle ultime uscite e si tratta di questo scouting in crema quindi questo stick in crema che fa appunto il nostro contour io ho preso il colore 200 pack molto semplice nero ma elegante pratico e perfetto da portare via con noi la sua texture è arricchita da oli vegetali quindi dovrebbe essere bello cremoso e Kiko promette un'alta sfumabilità andiamo a provarlo è leggermente caldo devo dire come tonalità ma da Kiko ormai ce lo aspettiamo lo conosciamo sfumabilità c'è perché veramente vedete che in pochissimo abbiamo già realizzato il nostro contour tra l'altro anche se lo lasciate in posa qualche minuto non succede nulla perché di qua si è sfumato altrettanto bene che dall'altra parte carino devo dire l'effetto finale non mi spiace vado anche a sporcare il pennello direttamente e vado a rimodulare i miei volumi del viso direi che le promesse di Kiko sono state mantenute perché veramente si sfuma ed è anche bello luminoso devo dire la base mi piace molto tutto quello che abbiamo utilizzato per la base secondo me valorizza tantissimo ottimi prodotti fin qui in blush vado a farvi vedere sempre qualcosina che avevo acquistato in saldo si tratta di questo blush della Lost in Amalfi è proprio una vecchia collezione la colorazione è la 01 First Sunrise e dentro è Mini ha il suo specchiettino molto molto bello aranciato proprio in tema autunnale io vado a caricare un po' perché il colore è appunto uno 01 quindi è abbastanza light a me piace il blush bello presente un po' stile Heidi ma fa proprio quell'effetto salute effetto sano che mi piace sempre avere sulle guance base light, luminosa fresca, leggera ma molto elegante poi passiamo all'ultima delle novità Kiko che è questa sono degli ombretti questi Water e Shadow sono degli ombretti singoli degli ombretti mono molto molto belli come colorazione se non sbaglio ci sono ben 22 tonalità quindi ci sono parecchie tonalità disponibili ma guardate che carini che sono bellissimi nel pack nero semplice bellissimo da tenere in borsetta fa proprio scena anche quando magari lo tirate fuori dalla trousse molto carino e guardate il colore spaziale che c'è all'interno io ho scelto questo la colorazione è la 06 è un tortora una sorta di tortora luminoso ovviamente bello e luminoso questi ombretti promettono una lunga lunga tenuta e anche un rilascio di colore immediato e quindi andiamo a vedere un po' come si comportano sull'occhio faremo una leggera sfumatura perché non riesco ovviamente a vedere l'occhio soltanto con l'ombrello la sfumatura ormai mi è quasi necessaria va da sé che la faccio sempre la farò con questa palettina anche questa palettina è una di quelle palettine che trovate sempre in gamma permanente da Kiko questa è la 04 Glamour Multi Finish queste sono le colorazioni che sono contenute all'interno della palette io la utilizzerò solo per fare la transizione ha fatto leggermente macchia perché ho preso troppo troppo colore perché sono veramente pigmentate queste palettine ma non fa nulla andiamo a lavorarlo un pochino di più vado invece con questo color binaccia vado ad alleggerire un pochino la sfumatura andiamo a provare lui su tutta la palpebra semplicemente col dito perché questi shimmer sono rilasciano più color ovviamente utilizzati così ma guardate che cos'è molto molto bello guardate proprio guardate la sfumatura vado a terminare anche l'altro occhio off camera e poi vediamo il risultato insieme questo è il risultato finito me lo aspettavo più intenso come colore ma comunque ci sta Kiko ormai sappiamo qual è l'idea del make up di Kiko quindi un make up portabile giornalmente portabile da tutti facilmente realizzabile bene in tema con l'idea del brand ecco ho detto che era l'ultimo prodotto che avremmo provato l'ombretto ma mi sono dimenticata nel rossetto liquido che è questa versione qua anche questi sono stati lanciati ultimamente è questo rossetto duo nel senso che ha un finish sia matte che lucido matte and shine duo lip color eccolo qua da una parte abbiamo la versione matte dall'altra abbiamo la versione invece luminosa quindi un gloss praticamente entrambe dovrebbero andare a fissarsi e diventare long lasting con una tenuta di 10 ore andiamo prima con la parte matte che è questa ecco qua molto molto bella devo dire che anche i prodotti labbra Kiko sono una vera chicca di solito come prodotti viso non si sbaglia quasi mai adesso lo lascio asciugare qualche secondo e poi vado a mettere il gloss sopra dovrebbe essere quasi completamente asciutto andiamo a vedere mi quasi la parte glossata è questa molto 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 bello secondo me il gloss lo schiarisce di quel mezzo tono gli dà proprio questa luminosità belli questi rossetti doppia funzione sicuramente sono molto molto belli hanno un prezzo accessibile ma non proprio low cost anche oggi il video termina qui fatemi sapere ovviamente quale dei prodottini vi è piaciuto di più che ne pensate del look finito vi aspetto qui giù nei commenti vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere tutti i video che arriveranno tutti gli aggiornamenti make up skin care e quant'altro io vi lascio il mio solito mega bacio e vi aspetto volentieri in un prossimo video ciao